Eccoci qua, siamo in centro-centrissimo, la via dello shopping pieno di griff, pieno di gente, pieno di casino e ci dirigiamo verso di nuovo l'oceano per fare un paio di foto, a noi due medesimi, stessi identificati qua lì dalle quali fin siamo partiti. Cerco di capire se la lente per la macchinetta fotografica l'ho rotta definitivamente o no perché prima prendo la borsa l'ho trovata in due pezzi, la cosa mi ha fatto il shopping. Questo ha irritato parecchio Fabio, adesso però stiamo andando a festeggiare una grandiosa notizia ovvero il funzionamento della mia carta di credito che fino a ieri funzionava.